Ciao a tutti, ciao a tutti, allora ciao da Gioco e Storia, Piana delle Orme in pieno svolgimento devo un po' urlare perché come capite qua c'è un bel po' di rumore, tanti wargamer, tanti gioco storico e anche giù, e anche giù adesso raggiungiamo, come vedete, giochi in pieno svolgimento, dimostrativi ed ecco che arriviamo alla parte anche del tridimensionale, tridimensionale, ciao a tutti, penso che mi vediate sì, spero, eccoci qua, ecco qua, gioco e storia, appena cominciata, poi stasera ci sarà l'asta e veramente tante tante cose, vediamo qui Battlestar Galactica e Wings of Glory ciao caro, European Turmoil, la parte della pittura, laboratori di pittura, Warhammer 40.000 che non può mai mancare, gli amici di Tattica e Strategia e ecco qua, tutta la sparata dei nostri amici di Tattica e Strategia Dark Ages, e insomma tutti, grande, una grandissima carrellata ciao a tutti, ci vediamo con i prossimi resoconti da gioco e storia qua c'è anche la parte mia che sto montando in questo momento ci vediamo, ciao